Malmino la scena Murti diyo ma tal keda Mawiladiyo sha'ab kenna Mawiladiyo sha'ab kenna Mawiladiyo sha'ab kenna Malmino la scena Murti diyo ma tal keda Mawiladiyo sha'ab kenna Maktahachi questo qui è un salto è come benissimo ma non c'è tutto è un santo a poco non è come a le raffolzioni a lo stesso a quello che ha detto a quello che ha detto è come ho fatta a te a te a te a te a te iscriviti a te a te di mi vai a te ascimi vale questo si è hermoso si è così si è una piccola abbiamo una piccola mi ala e il bambino ce tu vedi no non ti c'o comunque ci sono gli amici sono il razzatino Ma c'è l' gemsulante. Non c'è chiudere la scedette. Non c'è chiudere la sceglata. Ti chiedere. Cosa sento accorire i figlii? Si chiede and finns i figlii. Non c'è chiudere. Non c'è chiudere. Non c'è chiudere il sogna? Desi! Questaピante è chiudere, nè? doveva giù come in se dice me sal richtig va a te non mi piace verso di sine non mi piace niente non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace niente non mi piace Alessandra Io sto ch Bizim"... io arrivo con laente. C'è un miro che siぉ il mio dico che si cosero il rimasto... ...c'è schabile che un sede!! Se science lascia le dico sopra è gi semplтовo! anderen come la casa? truth focus asciogli in facebook! Ara chi che così sai dal tema?! Vedi la mia famiglia di Faisbubo? Per il conto di Soudafrika? Ma sarà un sacerico? Soudafrika è il conto di Soudafrika? Sì, di Soudafrika! Non c'è anche la mia famiglia! Anche le parole! Vedi 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 le parole! Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Noi, non sono gli sottotitoli. Non si le usano che cusevano. Non sono gli ombi. Non si c'è un gioco. Non è il gioco che c'è ora. Tu sei il gioco di un mondo. Non ti amo! Non ci sono i conti. Non ci sono i conti il gioco di Cantacchi. C'è il gioco di Cantacchi? No, non ci sono i conti. Il gioco di Cantacchi. Non ci sono i conti. Ossomali e la Sommandaria. Non ci sono lavorate. Non c'è chiudere la vita. Non c'è mai un po' di lei. Ma non è un po' di lei. Non, dici le persone, non ci sono tutte le cose. Che cosa si tratta il loro, non dice. No. Ma cosa sei? Le cose di doordy. Non, 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 non. Manteggiare il modo che sposte meno quale È tutto l'unico, perché certamente il nostro succederebbe Vedi 3, il tutto il nostro cuore Questo è il nostro cuore Molto, non è sicuro Il nostro è andato ma comunque è difficile boileda Non è Vadora se vogliono Non è ancora poco Il nostro cuore Sotto il nostro cuore Ma lei non si parlava di salafrica ma lei non si parlava di salafrica Ma tu non è un grazie Ma che non è un grazie Non è un grazie La grazie Non è un grazie Ma ne sono in mente Ma non c'è un grazie Si, non c'è un grazie È un grazie La scuola in grazie Carmelo con il suo piccolo Salamo ala. È stato un grande periodo ha romputo il stato ha reso a 30 anni da Croato e ho conoscato a proposito da l'immagine la RUT che è avvenuto aveva un altro corto a RUT che è aperta Bate me hanno anche seguito che per arrivare a questo. E' un'altra quantità. E' un'altra cosa. Un'altra cosa era assoluta, che era assoluta. Un'altra cosa era assoluta. C'è un'altra cosa che sordi? Se non è assolutissimo, è un uomo ancora. Perché ha detto che stanna? Siamo tutti. Non è un'��라zione. È un'altra cose che la studia da collaborate. Non è un'altra cosa che gli stai a lavorerci. E' un l'amore. È un l'amore. Non è un ottimo. Ma non è un buon. D'accordo, d'accordo. Non si vedi la mia. Non è un ragazzo. 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero. C'è questo? Sì, non è così. Non ciò che c'è la mia famiglia. Non si può essere riuscita a casa. Non si può essere riuscita a casa. C'è Maria? 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 C'è Maria perché se va a una amata che in Sin voula la riflessa ma? C'è Maria lawsuiti anche prima? C'è Maria? C'è Maria? C'è Maria? C'è Maria? C'è Maria? C'è Maria? Di tre? La storia da Infra Sch responding. Eh. Bisogna una scena. ha parlato di Sinapecat. C'è Sinapecat che mi ha parlato di Sinapecat. C'è il nostro guarno e se quando conoscopo gli sardi in un giro? Si... Quando un giro in Sinapecat ha avuto un giro di Sinapecat, si trova i due paese, i due d'altro voti dalla compagnia, ci sono un giro di grado e ti ricordi Almostari. Si ho diseggiato, Sì cosa è l'entipo? Ti senti tome questa, che guarda bene. Non, non? Tuoi preparato un'attrazione? Di lui. All'arrabile a lavorare in un un amico. Io ho amato sul mangiare. Ti senti. Un po' di due due. Mi riesci a fare un'attrazione. Un po' di due due, sono una bambina della règle, non sapevo la loro bella. Non c'erano. Non c'erano ma anche l'ascienza, sono lavorative le bambine. Non c'erano, diciamo, se c'erano il rischio. Non dà nessun ragazzo, spero che questa è un bambino. Non c'erano un bambino. Non c'erano un bambino. Non c'erano abbiamo detto, non c'erano un bambino e offensi a fare un bambino. Tu mi parlo, Dio, non è un bambino come si è un bambino. C'erano. Mi parla, prego. Ricorda, non c'erano nulla. Alla prossima. ma l'ammihino l'aschina murti di eo batal keda mawe l'adio chagab keda mawe l'adio chagab keda mawe l'adio chagab keda ma l'ammihino l'aschina murti di eo batal keda mawe l'adio chagab keda mawe l'adio chagab keda